Oh! No! Cia va, attenzione! Aglio, prendetele che in mano, facete prima! No! 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 Eh, ma ci hai prenduto prima! E ho il water là, ho il water! Caminato, che è? Ho trovato il basso! Quello! Oh, oh! Tu vuoi suonire? Eh, ma io! E cazzo eh! Stavo gioco! Oh, vieni che sta un filo! Uove! Ma io già faccio la focalenza! E' per provarla se funziona! Funziona? Funziona, si! Funziona, si! Allio! O è davanti? Jolgo! Sì! 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 Eh! Pertanto,ermi, fate fermare un camion! Ehi! Aspettate che vi facciamo scendere! Vieni qua! Ed io qui lui! Avassi! 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 un bacio di bocchino che ora mi fai? 7.30 perché là ci sono due ore, due ore e mezza Gianni diceva chissà era la mette ma nonno, ma chi se lo tagliavano? chi se vien da un camine? perché? io tagliai in un milo si ma dove ti? pigliatela a quattro hai da votare assieme sennò mi faccio rimanere mi scelto un pochino e non vanno qui scelto un pochino che è? si chiude? si muove? si muove fai il giro andrei vieni qua vedete qua il chilo sale sopra e non c'è guadagnolo che vuoi? cosa vuoi? d'acqua? e dove vanno? bane? non vado un pochino dicendo che vuole vanno? che vuole vanno? sto a fai un muro che sta qui se vuole vanno? sono stott ! non ne ho un pochino non è un pochino e non mi ripeto non è un pochino E' un'altra cosa. Buuuh! Buuuh! mettiamo che fiammone ora parte pure acqua non hai mai che la busta là sotto scoppi tutta la busta di chi è che l'hanno visto che l'hanno non hai mai il creatore soprattutto